Eccoci qui, buonasera Buonasera, buonasera e benvenute da Martina e Giussi di www.mochimaggi.it Oggi è martedì 22 settembre 2020 e sono all'incirca le ore 21 e 15 Ok Allora, appello veloce veloce per chi è di Caseros 7000, 7000 Nord, 7 Camini e Limitro Se sentite in tuono, diteci o in diretta perché c'è le mercane da solo a casa Grazie Informazioni di servizio I fulmini si vedono, si vedono tranquillamente Però non si sentono i tuoni, quindi se voi sentite, ditecelo Arrivata Katia, Cinzia Ciao, ciao Silvia, Emanuela, Anna Monica Ciao, ben arrivate Teresita, ciao Ciao Rosa Maria, Roberta Ciao Anna Maria Marzia Ciao Cristina Buonasera, ben arrivate Valentina Valentina Francesca Che subito www.mochimaggi.it Grazie Anna Rita Chi c'è? Sara Ciao bellezze Ciao Gentilezza Sara Giovanna Giovanna Rosanna Sabrina Mi sono piaciute le torte? Avete visto quante? E quante altre ve ne faremo vedere? Simonetta Katia Ciao Ciao a tutte Ben arrivate Ivana Avete visto che nelle storie mi sono parata a mettere la musica oggi? Più carina è così Petra Rosangela Ciao Ciao a tutte Ben arrivate Ma Robi B Ci sarà Luana Robi B Ma voi entra Che sei a fa? Natalia Noemi Sempre sdragliata Sempre sdragliata Anna Moni Ciao Marika Mimma Ciao ciao a tutte Che famo? Iniziamo? Yes Spacchettiamo? Spacchettiamo Vai con lo scarto Dice Irene Allora S'ha detto Irene Io aprirei Esatto Aprirei Esatto Quante siamo? Siamo 200 Quelle che vengono appresso poi C'è Antonietta De Micco Antonietta Ciao Sei in diretta Sei in diretta Antonietta Ciao bella Ciao Clara Quanto tempo che ci vediamo eh? Siete fantastiche Che me sa che l'ultima volta che sei venuta io non c'ero Eh non mi ricordo Ma te so pezza me sa l'ultima volta è vero? Me sa di sì Antonietta che dici? Namo? Namo Namo Se senti i fulmini Scrivi Sì Dacci informazioni I fulmini casomai li vedi I tuoni li senti Ciao Alessandra Ciao Paola E ciao a tutte Senti Andiamo dai Andiamo andiamo Abbiamo superato i 200 Ci può stare La piccola bombetta Mi muovo io Ciao Stella Io ancora sto sulla mongolfiera Quella che mi ha rubato il cuore Dice Anna T'è piaciuta? Daniela Eh Daniela cugini Daniela mi raccomando sugli attenti Se senti un tuono Avvisasi Sì Daniela tu sei la più vicina eh Sei la più vicina Sei a 100 metri da noi Ah beh Allora il primo pacchetto è molto facile Susi Dica Eh non posso manco un crinale No Questo pesa più di più Finalmente direi finalmente Gloria Ce l'ho anche con te per il discorsetto che saravamo fatte Natalia Natalia è tornata la colla va essen Non che quella da stafile non sia buona Però c'è un altro contenuto siliconico Infatti questa è molto meglio e costa uguale Esatto Ne saranno arrivati Quanto ho tirato su? Eh sono arrivati 6.000 stick 25 libre Vabbè Vabbè 25 libre di colla Poi Vabbè fate la conversione Ciao Mimi Ciao Aurora Olga Vabbè tanto a voi che bevrei Ha comprato a 10 a 10 Esatto Eh Carcolate ne sono arrivati 6.000 Presto è mia Perché non voglio mai più senza eh Questo è un prodotto mai più senza Sabrina Sabrina Sapri pure tu Sabrina Falcioni Ciao Patrizia Ti mi tiro che devi fare Che non stavo dall'inizio Non aveva capito Eh ci devi avvisare se fanno i tuoni Ciao Loredana Ciao Carmen Farei proprio che sta a parlare con i parenti Sì È vero? Sì Allora ci hanno mandato un libricino Perché? Dei pigmenti E E altro Mila e mila colle Sì Ciao Tiziana Ciao Federica Ahu Amor il prossimo spacchettamento se portavo pure chi? Eh No è vero No dobbiamo stare in piedi Ma no Potremmo far entrare qua Tutti i pannolenci Poveri Pannolenci Impelati Col sottopelo Impelati d'amore Allora Ciao Marilena Che cosa sarà questo? Chi lo sa Un nuovo materiale Ahu Ciao Luisa Ci siamo ricascate Non c'è niente da fare Ciao Fabrizia I pacchettini I pacchettoni Ciao Zucra Assunta Assunta Ciao Assu Sugli attenti eh Ce ne mancate Assu Proprio oggi lo stavamo a dire Ce ne mancate Tutto quel bel casino che faceva Ma Adriana e Carmelo Dove sono? Oh io me sto preoccupata E domani insiamo Sì Era ieri Ieri è venuta Paola Che salutiamo Sia Paola che Mauro Metti sto video su Youtube Che se no Non ci possono dire Sia Paola che Mauro Sono arrivati con sta macchina Io convinta Che erano Adriana e Carmelo Convinta Perché è una coppia Che ha la stessa macchina E tutto quanto E invece n'era Adriana Sono stata contenta lo stesso Però mi è stata un po' preoccupata Ciao Nunzia Ciao Eva Ciao Giovanna Ciao Daphne C'è anche Esther È arrivato Daniele Mi sono data un cartone in faccia Non l'ho vista Che dici? No Non ti preoccupare No 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 È stato al sole Sì ma proprio artezza Saremo a vedere tra sette giorni Comunque Allora rispondo solo a Natalia Sì è la colla che piace a te Sì Natalia è quella E poi è arrivata Robby Bay Oh finalmente Ah Robby Mi sono data un cartone sulle gengive Che dici dove ne ha trovato? Dimmi un po' Ciao Sabina E Patrizia Ma sapete che mi sono emozionata Per la vostra telefonata Siete dolcissime E molto professionali Ma Patrizia Ma ne ha parlato con me? No ha parlato con me Però l'ho tampinata un giorno Che problemi Davvero Con l'ordine Allora scusa lo storico Sì esatto Che cosa abbiamo qui? Facile facile Ci abbiamo due sidekick Moira Hai che me la so ricordata? Ci abbiamo due sidekick Sidekick Big shot piccolina Fa solo fissa le metalliche Fino a sette centimetri di ampiezza Costa 45 euro Da noi Poi Eccola qui Pizzina pizzo Ciao Franca Elisabeth Ciao Comunque io non vedo loro Ragazzi Di gennaio Per dormire un po' Perché? Ah Io a gennaio andrò in Letar Esatto Ve lo dico In gennaio andiamo in quarantena In quarantena Uh È arrivata una big shot Standard Ma Vedi? Guarda qua Si è inclinato il cartone Però il dente lo penso sia Vorrei vedere Anche perché Asyzyx ci mette 10 kg di polistirolo Big shot standard Se va a comprare e va a riparare così Non vi preoccupate È sana Ok Ma questo è un pacco facile Questa cosa è gigante Angela Perlino Avete anche le costelle? Fai l'inquadratto Angela Eccole qua Diciamo che qualcuna c'è Ci sono Ci sono Qualcuna c'è Questi che sono uguali Se le aprimo Insieme Ciao Milva Ciao Milva No Sabrina Non l'abbiamo Oh Gesù Questo scotta Che? Che? Questo scotta Le famo un pazzì Perché non so Quanti pezzi ce ne stanno Poggia pistola È come il mio Quello che avete visto In tutti i video Al momento È uno E quindi Ecco qua Poggia pistola Quello che Carmen Era caduta Deve mandare la pinata Però c'è riuscita Sì Pure quella volta Uno solo ne mandarono Poi Poggia pistola Originale Sizzix Fa la pistola Sizzix Poggia pistola E qua a me Sto pacco Già mi piace Sì Poi Un'altra bella cosa Bollente I pistilli Della Sizzix Guardate che colori Che hanno Giudicate voi Se insomma Meravigliosi Questo è il set Bianco e crema Così lo chiama La Sizzix Giusti Sei troppo precisa White and cream Sei troppo precisa Basta White and cream Poi Un po' De fustelline metalliche Che tagliano Carta cartoncino E gomma crepla Ah sì Questa me la ricordo Ho presa io Perché È un'altra cosa Mai più senza So le palme Prima o poi Mi serviranno Io lo so E poi ho voluto Prendere Questo qua pure Me lo ricordo È un altro tipo De fiocco Più grande Rispetto a quello Da Sizzix E mi piaceva Perché c'aveva L'intaglio E poi c'ha I rifiniture Vedi Puntiricchiate Puntiricchiate E quindi Mi piaceva come idea Perché è più grande E ecco qua Fiocco Viene così Non so se Più o meno Viene Dovrebbe venire Assembrato Sui 5 cm Che ne sai È perché Misura un 10 Fa già Sì Ad esempio E brava E brava La nostra Susina La big shot Standard Col kit 125 euro Sì E basta Basta E poi adesso Passiamo A fustelle Per Il feltro Però tagliano Carta cartoncino Con ma crepe La pannolenci E feltro Ok E so Standard Allora Ci abbiamo Alberello Di Natale Quattro elementi Natalizi Questo è utile Pure per chi Ha appena Comprata Big shot Stella Di Natale A rosa Pigna Un paio De papaveri Che Non bastano Mai Questa È la Stella Di Natale Un po' Più Di Finita Però Questa La consigliamo Solo a chi Sa A cucire Perché Una volta Tagliata Va fatta Col punto Filza Tirata E poi Vi esce Così Non so se Mi so Spiegata Nel senso Do sta Ecco Questa Va tagliata E sovrapposta La frastagliata Cioè Stiamo Invece Questa Quella Ammorbidita Va Tagliata Fatta Col punto Filza Sotto Tirata E vi esce Così Punto Filza Sarebbe Quello Per Alberello Frastagliato Alberello Frastagliato Che L'altro Anno Ci ho fatto Penà E questa È molto Carina Questa Qua Dà Sia La Pustella Che Taglia Sia L'embossing Ecco Qua Io Ho provato Embossare Pure Sul Fommi E È Venuto E Questa Qua Vedà Proprio Come Vedete Quindi Fiore Ramo Pistillo Farfalla Così E Un Andato Ah Ciao Michela Con Marzio Ciao Michela Ciao Marzio Allora Continuiamo Con altre Pustelle Questo Queste Se le Levamo Che Già Se le Siamo Viste Ecco Qua Allora Questo È L'albero Di Tim Moles Ok Quindi In Una Pustella Troverete In Rata Un Arbero E Mezzo Perché Dici Un Arbero E Mezzo Perché L'altro Mezzo Che Sarebbe Rappresentato Da Questo Chiaro Verde Chiaro Lui L'ha Pensato Per Creare Delle Ombre Nel Nel Nostro Paesaggio Nella Nostra Creazione Ecco Qua Quindi In realtà Trovate L'arbero E Mezzo Che Se volete Lo fate Se non Volete Lo fate Insomma Fate Un po' Come Lo fate Giusto I prezzi Delle Fustelle Trovate Su www.makimagi.it Che ci ha Postato Francesca Grazie Mille Ciao Liana E Ciao Angela Poi Ci abbiamo Una Fustella Sempre Tim Mors Che Vodica Fa Tim Mors Sarebbe Il Disegnatore Della Fustella L'ideatore Il Creatore Della Fustella E Dici Ma che Mi frega A me Che La Disegnata Però Dove Deve Sapere Che Io Ho Un Amore Spassionato Verso Quest' Uomo E Quindi Tendiamo Sempre Più O Trovate La Farfalla Grande La Farfalla Piccola Che Se Volete Le Potete Fare Separatamente Ma Se Avete Un Attimo De Estro Creativo Le Fate Insieme De Mezza Tonalità De Colore Diverso Quindi Viene Solo Rosa E Rosa Baby E Viene Una Cosa Più Tridimensionale Come Non Mi Sono Spiegata Sono Apposte Sono Apposte Però Una Più Grossa Una Più Piccola Diviene Una Cosa Più Viva Poi Fustella Scritta E Nato E Nato Guardate Bene Che Qua La Scritta E Tutta Attaccata Quindi Non È Alfabeto Singolo Vedete Nata È Tutto Attaccato E È Bella Grossa Questo E Pensato Vi Fiocchi Nascita Poi Fustella Papillon Perché Questo Pare Proprio Un Papillon Però È Fiocco Qualsiasi Poi Asian Flower No Ti Amiamo Terassi Al fiore Che La Clamoscello Brava Susi Poi Questa È Un'altra Creatrice Che non Ci piace Tanto E È La Pianta Succulenta Pensata Per Esatto E Per Una Buona Vista La Potete Vedere Assemblata In fondo Assemblata E non Assemblata Questa Per esempio È un'altra Disegnatrice Fustelle Che Ci piace Tanto Dice Chi È È La Signora O Signorina Muballa HV Brenda Walton Che Si è Inventata Questo Fiocco Questo È Il Fiocco French Di Brenda Walton Però Comunque La Gente Potrà Dì Ma A me Che Mi Frega Come Si Chiamano E Che Mi Frega Chi Si Inventata Stasera Lezione Di Designer Di Fustelle Allora Questo Fiocco È Il Fiocco Classico Mettete Dappertutto Ok Quindi Il Papillon In Conto Questo È Il Fiocco Classico Mettete Dappertutto Rispetto Al Papillon Lo Prendo Lo Faccio Vedere Scusate Se Me Sono Cagliata Ecco Ecco Qua È Molto Più Grande Vedete E E Papà Sia La Parte Grande Sia La Parte Piccola Ok Questo È Un po Difficiletto Da Fustellare Ma Non Vi Preoccupate Perché La Signorina Brenda Dentro Ha Messo Le Istruzioni Esatto E Poi Comunque Abbiamo Fatto Pure Tutorial Noi Mi Arberello De Prima Rosanna Lenza Dice Che Tuona Da Lei Tosta Rosanna Vicino Ma Non Vicinissimo Vicino Ma Non Vicinissimo No A me Mi Serve Qualcuno Sette Camini Case Rosse È Nato È Nata Animaletti Baby Eccoli Qua Questi Oltre Animaletti Vedrà Pure Gli Elementi Tipo Il Cuoricino Il Pallino La Cosina Molto Carini Animaletti Baby E Ci sta La Giraffa Il Gattino Il Koala E L'elefantino Questi Li Potete Fare Sia In Gomma Che In Pannolenci Ecco Qua A me Ti Bebi Tutto A posto Carmen Ha Detto Che Da Lei Non Tuona Allora La Classica Una Rosa Prastaiata Ok Poi Meno Classica Ma Sempre Apprezzata La Rosa Graziosa Guardate Quanto è grossa La Fustellata E V'ho Detto Tutto Tutta La Fustella E 15 Centimetri E V'ho Detto Tutto Poi Ostia Diluvio Speriamo Che Non Arrivi Qui Questo Sta Fustella Giussi Guardate Il codice Di Prima Fustelle Perché Perché In una Fustella Sola Vedrà Sia La Rosa Grande Che La Rosa Piccola Sono Molto Facili Da Assemblare E Fanno Un Ben Risultato Poi Mi sa Che Sto Sentire Vabbè Questa È Fiore Con Ramo Poi Ci Abbiamo Due Ramoscelli Stile Shabby Molto Delicatissimi Sono Proprio Delicatissimi La Fustella Auguri Questa È Lunga Tipo 11 Centimetri Cioè È Bella Lunga Come Scritta E È Tutta Attaccata In più Veda pure Sti Elementi Che Sono Stelle Cuore Ecco Qua Auguri Poi Sempre La Stessa Io Faccio Una Filla Dietro De Fustelle Che Qua È Finita Analisa Dice Tuona Analisa A Sette Inle Nord Vabbè Io Continuo Un'altra Fustella Che Amiamo Questa Vi Da Quattro Divide Fiori Guardate Qua Sono Due Fustellati E Che Vole Di Caffà Sempre Disegnata Dal Signore Tim Holtz Da Tim Che Tu Fratello Da Tim Poi Fustella Ortenzia Questa qua Gempieti Il Feltro No Mistolana Magari Il Feltro Quello 70% Poliestere Poi Fustella Natività E Natività È Diciamo È Morbida Natività Morbida Bella Rotondata Stondata Carina Tanto Carina Parco De Medici Di Lugia Vabbè State distanti Fustella Scopa Da Befana Mo Questa Voi Non la Viate Sottocamba Perché In realtà Io Qua C'è Misi Un Bacio Perugina Ti Ricordi Un Bacio Perugina E Comun Perché È Tipo Una Scatolina Ok Un Bacio Perugina E Comunque C'era Altro Spazio Quindi In realtà Ci Entrano Tipo Che Ne So 4 5 Caramelle 3 Caramelle Tipo Gelè Sì Sì Ma Di Più È Bella Grossa È Grossa Di Una Scopa Così Grossa Grossa Sì Bella Questa È Una Fustella Che Non Gli Dà Un Sordo Invece Rimasi Soddisfatta Sabrina Dice Che Tu No Poi Qua Sabrina A Case Rosse Ma È L'ultimo Pacco Dai 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 Scusate Villa Nuova Villanova Ma Che Sei Dalla Transilvania Allora Non so Chi Aveva Chiesto Sì Queste Sono Big Shot Piccoline Le Sidekick Col Kit 45 Euro Ovviamente Tutto Sul Sito Come Già Vi Ho Detto Prima E Lì Trovate Tutti I Prezzi E Tutti I Dettagli Di Tutti I Prodotti Che Abbiamo Nettuno Pioggia Nettuno Vabbè Tutto Armare Tutto Armare Ciao Paterina Ciao Teodora Tutti Al mare Tutti Al mare Com'era Quella Canzone Allora Due sfere Enormi Da 15 Centimetri Un po' Ammaccatelle Ma se C'ete Fa Un buco Se C'ete Fa E Lo Vedi Perché Stavano Guarda Metteremo Lo Sconto Metteremo Lo Sconto Sulle Sfere 15 Centimetri Ok Poi Novità Ecco Questi Guardate Che bello No E' un uovo A casa Allora Guardate Io Vi dico La verità Credevo Che le mensolette Dell'arbero De Natale Fussero Un po' Più Grosse Ho pensato More Coro Metteremo All'entrata Ci poggi Le cose Che non Ti vede Le sigarette Accendine Le cose In realtà So Mensolette Da Due centimetri Due centimetri Due centimetri E mezzo Si E' bello Bellissimo E' alto Non lo so Costa Non lo so Ma non ci piace E' alto 45 centimetri E Costa 14 euro Bellissimo Bello Eh Si si Vero Si infatti Sono tanto contenta Pure di star beremo Ok Insomma Piove in tutta Italia Dovunque scrivono Serio Davvero Allora Visto che era finito Noi che favo Non lo ripiamo Certo che lo ripiamo Io devo fare L'aria bambina Quindi Kit mille pezzi Per i bambini Ecco il qua Kit mille pezzi Bambini Nel kit Potete trovare 15 piume 6 fogli di feltro A 5 6 fogli di gomma Crepla A 5 180 adesivi Alfabeto In gomma Crepla 25 bastoncini 30 mollettine 3 glitter 30 pompon 12 fili armati 10 miglia 100 strass 100 chettine 500 brillantini 6 sfere Devo listirolo Mille pezzi Ecco qua Ciao Silvia Ciao Fiamo Fiamo l'appello A A Giulia Arcudi Che sicuramente Si chiamerà Col cognome Ma Si chiamerà Col cognome Del padre Ma Il tuo kit E' qui E' qui E' qui Che t'aspetto Ciao Cinzia Ciao Nancy Ciao Nancy Buona Pella Guardate un po' Altra novità Questo è tutto Un kit Senti ma Una la prima Sì Una la prima Guardate quanti sono E' tutto E' tutto un kit E' un albero Che la sfera Dei plexi Secondo me 8 cm L'albero E' alto 25 cm Questo qui Con la sfera Ci avrà pure la base Sicuramente Ma uno L'apriamo Sì C'è anche la base C'è anche la base Arriva all'ultimo E la prima Guardate che ho trovato Un vestito Così Credo sia l'ultimo E io lo vado ad aprire Fammi dare un'occhiata Eh ma qua non ci si capisce niente Hanno fatto proprio Dei brutti pacchi Questa volta Eh Katia devi essere La nostra portavoce De che? Questo è un po' Che lei Ogni volta lo dice Ma esce una cosa Da un'altra parte Ah Ciao Carmine Ciao Carmine Ciao Piero Ciao Ginevra Ciao Ciao Rita da Napoli Il kit dei bambini 18 euro Ciao Denise da Verona Ciao Francesca dalla Sicilia Ciao Francesca Allora E ciao Mena E ciao Mena Da Piana di Monteverna Giusto? Esatto Katia infatti non capisco Perché Martina si stupisce No perché Perché io mi sono ancora abituata Cioè dico Sono Scusate Uno Due Tre Quattro So Cinque Pistilli Ma che senso c'ha Che me ne metti Quattro dentro Una scatoletta E uno sfuso Dentro all'altra Esatto C'è C'hanno i magazzinieri Embriachi In Olanda No Mi stupisco Mi stupisco E' vero Allora Ecco qua Che bello E sul sito Potete anche vedere Dei progetti Già realizzati Con questo alberello Da apri Sì Darsi Dalla Joycraft Perché questo Ah Joycraft Un prodotto Che ci hanno fatto Dentro alla spera E ci hanno messo Una tenna Carino Carino E mua Fatta Mua fatta Dai 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 Ciao Teresa Ciao Miriam E ciao Rita Quella sa Troviamo che anzi Ma eh Regà Chita c'ha 15 anni Allora Pistola da Sizzix Una Ok Non cola Non fa fili Costa solo 15 euro Che voti che fa Grazie Susi Grazie Poi Più che altro Dico Ci si è prospetta Una bella nottata Tipo stamattina Alle sette Lo sapete che mi ha detto Mi nipota La madre Sei svegliata Alle sette E andavo dalla madre E mi ha detto Mamma Ma oggi è capodanno Capito Perché aveva sentito Il tuono Talmente forte Che si credevano Che erano i fuori D'artificio Capito Vabbè Scusate Intanto giusto Mi fa il segno Guarda il stato E ghirlanda 35 centimetri Piatta Con il sirolo Alta densità Che voti che fa Ecco qua Ok Il berello con la sfera Sta 8,50 Sempre 35 centimetri Sempre piatta Sempre alta densità Sempre Che voti che fa Ma che impili a fa Perché Impila Così Così levo da mezzo Poi E qui qua Guarda C'è stato qualche Corriere Non ce la faccio Ma ti prego E vabbè E vabbè E vabbè Non si può No Guarda Guarda Avanzate Questo E vabbè Li leveremo dal sito Quelli danneggiati Ovviamente Tu già ce la messi? E certo Che già le ho messi Purelli Non potevo sapere Purelli No Lo so Che ha aggiornato Il sito Povero Piccino Quello Con il pancino Grattugiato Una squadra De orzacchiotti Sì Questo C'è la ricchia Un po' abbassata Vabbè Poi se inventiamo qualcosa Non vi preoccupate Questi Non vanno persi E' vero giù? Sì Sì Certo Però non si fa così Eh dai Si fa così Poi sfere da 15 12 Quello è 15 Ah sì? Sì Sì Sfere da 15 Sfere da 15 cm Sane 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 E' salvo E' che è qua Ma l'ora è incaglia Su la sistemazione Delle sfere Vedo Ranno un po' più Vabbè Comunque Allora Poi ci abbiamo Lo scotch Biadesivo Da 6 mm Da 6 mm Eppure quello da 3 Ok Quindi scotch biadesivo Per i vostri Fufucias O per quello che volete Da 6 e da 3 mm Ecco qua Lo scotch Non è rossa È trasparente La pellicola rossa È quella che divide I due strati Contenandar Un bello spacchettamento Rilassante Sì Molto Piacevole Ma che so Ste cose Sfuse Giuse Impara Dell'olandese Per piacere Allora So Occhetti So occhi mobili Occhi mobili Mo ve dico Allora Un pacchetto Questi So da 7 mm E so 20 occhi Quindi ci fate 10 bambole E questi So So da 7 mm E so 20 occhi Questi so Da 20 mm E so 6 occhi Quindi ci fate 3 bambolette Ecco qua Quindi da 7 e da 20 Una misura intermedia Non ce l'avevo No Eh no Adiviamo Tocca via La misura intermedia Poi Sfere da 12 Sfere da 12 Poi Ah Un'altra pistoletta Da Sizzix Eccola qua In cola e in fa fili Per chi non la conosce Se poi In abbinato Ci comprate Pure la colla buona Che voti che fa Allora Questo è un altro Arberello De Natale Sempre in legno Tutto traforato Chiricorato Eh È alto 18,5 cm Di larghezza Mi sa È alto 25 cm Ecco qua È alto 25 cm E è largo 18 cm Guardate bene Che questo non è piatto Ah vedete Lo vedete Se lo taglio qua È perché La parte dietro Va intersecata Quindi ci avrete Quattro lati Quattro lati 18x18 Ve fa un quadrato Quattro lati E costa Non lo so Però lo trovate Sul sito Costa 7,50 www.mogimagi.it Ok Felt roll Felt roll Quindi ci abbiamo Questo è pannolenci Pannolenci Arto 45 cm Per un metro Costa 3 euro Questo è rosso Vivo Ecco qua Poi Questo è Bordeaux 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 Rosso Allora Sul sito si chiama Rosso Ma a dar vivo Vi dico che è Bordeaux Questo è molto scuro Mettiamo così No Questo è rosso Ferrari E questo è Bordeaux Ecco qua Guardate il paragone Ah beh Questo è proprio rosso Natale Ah Con l'incatto Sembra più scuro Sì è vero No è rosso Rosso Ecco qua Poi Questo sul sito si chiama Turchese Turchese Ecco qua Sempre pannolenci 45 cm di altezza Poi abbiamo Un paio di Ecru Che in italiano Se chiama E' in panna Sì E' in panna E' in panna un po' più scuretta Guardate La voglio come lo volete chiamare Ecco qua Ecco qua Ecco qua Sturcito Ecco qua Mazzà roba che abbiamo tirato fuori in due minuti Sì È stato tutto un per amore di kira carmene dice potete usare il mio ombrello e poi è di quasi che facciamo parcheggiato davanti al cancello e poi bianco vera terminato poi il bianco vera terminato e poi basta e poi basta questo è tutto mo per esempio chi non ama tanto gli animali dice ste due son matte chi ama gli animali magari dice correte dal cane che quello che pian corpo c'ha 15 anni giusto è comunque noi ci scusiamo per essere andate un po dei corsa così e non avere tanto chiacchierato ma ci rifaremo se non sto fine settimana inizio la prossima e niente andiamo senti quindi un bacio grande da martina e giusi di www.mochimaggi.it scusate la velocità buonanotte ciao ciao